Che cosa si fa in consulenza? Conviene lavorare per un'azienda di consulenza? Nel video di oggi cercheremo di rispondere a questa domanda. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Se tu fossi nuovo mi chiamo Placiduccio, faccio video su YouTube da due anni e sono laureato in ingegneria gestionale. Ho creato una serie di video chiamata vita da ingegnere dove ti racconto la mia esperienza lavorativa. Ad agosto dell'anno scorso mi sono trasferito per lavoro da Milano in Danimarca e ho documentato tutto tramite dei vlog e tramite video che puoi trovare qui sul canale. Se dopo aver visto questo contenuto, lo reputi di valore, ti ho minimamente motivato o ti ho raccontato magari qualcosa di nuovo, ti chiedo di andare sul mio canale YouTube mi chiamo Placiduccio, iscriverti al canale e se ti va lasciarmi un commento. Infatti rispondo a tutti i commenti. Per chi già fosse nel mondo aziendale o avete un profilo LinkedIn lascio il link del mio LinkedIn in descrizione. Anche lì sono sempre lieto di ricevere i vostri messaggi e i vostri feedback per quanto riguarda il podcast. L'argomento di oggi è che cosa si fa in consulenza? Che cos'è un consulente? Perché dopo l'università alcuni vanno a lavorare per aziende di consulenza altri invece vanno a lavorare per aziende produttrici di qualcosa o cosiddette aziende cliente? Cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento e oggi ci focalizzeremo proprio su che cosa fa un consulente e che cos'è un'azienda di consulenza. Premetto che io non ho mai lavorato in un'azienda di consulenza però più della metà dei miei colleghi universitari che si sono laureati in ingegneria nel mio caso ingegneria gestionale sono andati in aziende di consulenza quindi ho dei feedback molto freschi e quindi comunque di tantissima gente che conosco perciò vi posso dire esattamente e in maniera molto precisa che cosa fa un consulente. Allora per prima cosa dobbiamo fare la distinzione fra azienda di consulenza e azienda cliente. Un'azienda cliente è un'azienda che produce un servizio o un prodotto finale ad un consumatore o ad un'altra azienda ad esempio la Roncato produce valigie ed è un'azienda cliente perché produce quel prodotto lì che vende oppure ad esempio la Ferrero produce cioccolata e produce prodotti dolciari per i consumatori oppure la Ryanair produce e dà servizi aerei ai consumatori queste sono aziende cliente e qualsiasi altra azienda produca o venda qualcosa verso altre aziende o altri clienti viene chiamata azienda cliente quindi dove effettivamente avviene la produzione di qualcosa che possa essere un servizio che possa essere un fatto solido tipo la Apple che produce telefoni è un'azienda cliente mentre invece che cosa è un'azienda di consulenza? Un'azienda di consulenza è un'azienda che di per sé non produce niente nel senso che loro non hanno un singolo prodotto che vendono l'azienda di consulenza è un'azienda che aiuta altre aziende a fare qualcosa faccio un esempio quando ad esempio in Unicredit che è una banca italiana quindi è un'azienda cliente loro devono portare avanti un progetto che possa essere un progetto in cui vanno a creare un'app dedicata ai giovani loro cosa dicono? per creare questa applicazione ad esempio di cosa abbiamo bisogno? abbiamo bisogno di una software house quindi di dei programmatori che ci creano questa applicazione abbiamo bisogno di gente che questa diciamo app dopodiché la sponsorizza quindi ad esempio un'area marketing abbiamo bisogno di gente che ci segue il progetto anche dal punto di vista costi abbiamo bisogno quindi di tante componenti per portare avanti questo progetto dell'azienda cliente allora molto spesso ad esempio ho detto Unicredit ma potrebbe essere un'altra banca potrebbe essere non lo so un'azienda che produce pezzi di ricambio per auto qualsiasi azienda deve portare avanti questo progetto allora loro cosa fanno? dicono è il caso che noi Unicredit, noi banca, noi azienda andiamo ad assumere dei software developer per fare l'applicazione oppure andiamo ad assumere dell'agenda e andiamo a fare il contratto indeterminato andiamo a metterci in casa delle persone che ci servono solo per fare questo progetto ha senso e la risposta che normalmente si dà è no quindi loro cosa fanno? quando devono prendere e devono portare avanti un progetto loro chiamano un'azienda di consulenza e dicono cara azienda di consulenza ci serve ad esempio una consulenza per quanto riguarda il marketing di questo progetto qua ci serve una consulenza per quanto riguarda i costi di questo progetto qua allora l'azienda di consulenza che cosa fa? prende delle persone e avviene il cosiddetto staffare prende ad esempio non lo so 10-15 ingegneri dipende l'azienda cliente di cosa ha bisogno e li manda a lavorare in quell'azienda lì per un determinato lasso di tempo che sarebbe portare avanti il progetto questa è la grande differenza quindi se voi iniziate a lavorare per un'azienda cliente voi vi occuperete sempre diciamo del prodotto principale di questa azienda quindi ad esempio ritornando agli esempi se lavorate per Ryanair vi occuperete sempre di voli aerei se lavorate per la Pirelli vi occuperete sempre di ruote di auto se lavorate per la Roncato andrete sempre a produrre valigie invece se lavorate per un'azienda di consulenza andrete a fare ad esempio non lo so per due anni seguirete il progetto per una banca a livello finanziario per due anni andrete a seguire non lo so il progetto del miglioramento di un'applicazione per un social network per due anni andrete a seguire un altro progetto proprio perché voi entrate a lavorare in un'azienda che aiuta altre aziende questa è la grande differenza adesso fatta questa premessa che spero sia chiara per tutti voi in realtà esistono anche aziende che sono sia aziende cliente sia aziende di consulenza però per semplificare questo video vi ho fatto una differenza netta fatta questa premessa e questa distinzione adesso andiamo a vedere che cosa fa un consulente allora come vi ho detto all'inizio esistono vari tipi di consulenza consulenza strategica, consulenza legata al marketing, consulenza finanziaria consulenza di sviluppo web, consulenza di data analyst consulenza di qualsiasi cosa nel senso che ci sono aziende di consulenza specializzate per tantissime nicchie ci sono anche aziende di consulenza che tra l'altro sono molto famose che aiutano anche i content creator a crescere sulle piattaforme come ad esempio youtube, come ad esempio instagram, come su facebook ci sono delle aziende di consulenza che ti aiutano a fare le pagine sponsorizzate aziende di consulenza che aiutano altre aziende a fare il bilancio a fare la revisione dei conti aziende di consulenza che aiutano altre aziende a prendere prestiti le aziende di consulenza in generale fanno la qualsiasi infatti qual è il target impiegato dell'azienda di consulenza? loro impiegano quasi tutti i rami tecnici leggo che in un'azienda di consulenza può assumere ad esempio ingegneri gestionali può assumere ingegneri meccanici può assumere ingegneri informatici può assumere gente laureata in psicologia ad esempio per chi va a fare HR o gente laureata in sociologia può assumere anche persone che sono brave con i social media ad esempio per fare social media management può assumere gente di qualsiasi settore questo è la consulenza adesso quando voi entrate a fare in consulenza come capite potete essere soggetti a fare una miriade di cose proprio perché l'azienda di consulenza viene chiamata dall'azienda cliente quindi i progetti che un'azienda di consulenza segue sono molteplici quindi possibilmente per uno o due anni potrete avere a che fare con un progetto ad esempio come dicevo per una banca per altri due o tre anni potete avere a che fare per un progetto ad esempio che segue non lo so l'energia rinnovabile oppure potete avere anche a che fare con enti pubblici che molto spesso chiedono diciamo la consulenza proprio delle aziende di consulenza proprio perché a posto di assumere persone preferiscono pagare i consulenti per avere un servizio ma quindi nello specifico un consulente che cosa fa? quali possono essere le sue task? sicuramente ogni giorno dovete scrivere delle mail dovete partecipare a dei meeting dopodiché come vi ho già detto dipende dal contratto che state seguendo e soprattutto dipende dalla vostra specializzazione quindi ad esempio non lo so se siete laureati in materie affine all'economia molto probabilmente vi potranno assumere per magari fare revisione dei conti per mettere nel sistema le fatture dell'azienda per mettere a SAP ciò che l'azienda sta facendo se ad esempio siete non lo so dei software developer dovete creare codici per conto del cliente se siete ingegneri meccanici, ingegneri processisti dovete fare cose del vostro settore come vi ho detto non c'è una task prestabilità possibilmente per due o tre anni magari seguite un cliente quindi avete un approccio fate delle task relative a quel cliente lì quindi non lo so scrivete mail preparate foglie Excel preparate diciamo delle presentazioni preparate dei documenti preparate delle analisi dopodiché dopo altri due o tre anni cambiate di nuovo progetto proprio perché siete in consulenza possibilmente questo cliente utilizza metodi diversi quindi ad esempio non lo so ha possibile utilizzare Excel utilizza altri software oppure ad esempio vi richiede di utilizzare altri gestionali quindi altri sistemi operativi e dopodiché quindi voi cambiate quindi lavorare in consulenza è un attimino più dinamico nel senso che negli anni il vostro ruolo può cambiare e soprattutto anche ciò che fate ogni giorno può cambiare ma può cambiare anche banalmente la location dove lavorate perché ovviamente se l'azienda deve diciamo mandarvi non lo so da Milano a Rimini a fare consulenza per due anni vi spostate per due anni nel prossimo video farò un video invece dove vado a fare una comparazione tra le aziende di consulenza e le aziende cliente e vi dirò il mio parere personale su cosa io vi consiglio di scegliere tra un'azienda cliente e un'azienda di consulenza ma questo lo scoprirete nel prossimo video adesso quando un'azienda di consulenza vi assume e voi iniziate a lavorare per questa azienda di consulenza normalmente passate un po' di tempo nell'azienda di consulenza ad esempio nel quartier generale quindi nel main office e durante questo periodo voi possibilmente iniziate a fare il corso della sicurezza iniziate a prendere confidenza con i colleghi iniziate a capire come funziona l'azienda dopodiché dopo che siete stati assunti e avete il vostro contratto che cosa accade? l'azienda di consulenza vi va a staffare vi manda a fare i consulenti rispettivamente a quello che è il vostro settore vi manda a fare i consulenti nell'azienda cliente questo processo si chiama processo di staffaggio quindi voi siete staffati vuol dire che voi lavorate per l'azienda di consulenza X e l'azienda di consulenza X vi va a staffare nell'azienda cliente ecco questa fase di staffaggio dura 2, 3, 4, 5 anni dipende quanto tempo dura il contratto di consulenza con l'azienda cliente può durare anche due mesi nel momento in cui vi vanno a staffare possibilmente oltre al vostro contratto che avete firmato con l'azienda di consulenza vi vanno a dare dei soldi in più perché ad esempio per due anni siete impegnati in questo contratto quindi non lo so dovete spostarvi dovete andare a fare qualcosa nell'azienda cliente e quindi possibilmente vi potrebbero pagare anche di più quindi vi ho svelato qual è il meccanismo e qual è diciamo l'incertezza perché vedo tantissimi che dopo la laurea ricevono proposte da azienda di consulenza ma c'è un pochettino di incertezza e il percorso è molto chiaro andate in azienda di consulenza vi fate i colloqui l'azienda di consulenza vi assume dopodiché c'è la fase di staffaggio quindi vi assegna ad un progetto per un'azienda cliente finito il progetto l'azienda di consulenza vi riporta negli uffici generali quindi nel headquarter dell'azienda e dopodiché aspettate per nuovi progetti che arrivano normalmente le aziende di consulenza specialmente in Europa sono pienissime di progetti infatti le aziende cliente cercano di assumere il meno possibile e cercano di delegare quanto più possibile alle aziende di consulenza proprio perché le aziende cliente preferiscono invece di assumere una persona formarla diciamo fargli il contratto seguire quella persona dall'inizio preferiscono pagare direttamente una diciamo un gruppo di consulenza pagarli direttamente per il progetto X loro fanno tutto dalla A alla Z e dopodiché finito il progetto anche il rapporto di consulenza finisce quindi l'azienda cliente ha sborsato una quantità di denaro per un determinato periodo di tempo solo per quel progetto che sta seguendo e dopodiché tutto ritorna alla normalità senza aver fatto assunzioni magari di tantissime persone che potevano essere coinvolte in quel progetto oggi vi ho svelato che cosa fa un consulente fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo video vi chiedo di iscrivervi al canale mettere like e ci vediamo al prossimo video grazie e ciao a tutti